Importare un modello di impresa sociale già molto diffuso nell'Europa centro-settentrionale per creare una rete di sinergie e contaminazioni culturali e professionali che faccia crescere il territorio, le sue imprese, ma che possa essere a servizio anche del pubblico. È con questa filosofia che nella zona industriale di Fonzaso è nato Dolomiti Hub. La struttura, completata di recente, si è presentata oggi ai media con la sua gamma di servizi e di proposte. Dolomiti Hub è uno spazio ibrido che consente di usufruire di un bar, bistro, piccola ristorazione, uno spazio co-working, la possibilità di affittare uffici, di stare insieme con molti eventi culturali. I nostri palinsesti sono sul sito www.dolomitihub.it, ma anche servizi alle imprese, bandi, progettazione e tutta una serie di comunicazioni, una serie di attività che possono essere utilizzate da enti pubblici e privati. Un progetto all'avanguardia e per certi versi avvenieristico, almeno alle nostre latitudini, quello di Dolomiti Hub, in cui i soci e Haber, per l'appunto, credono profondamente, come dimostra anche il corposo intervento di trasformazione che ha letteralmente ridisegnato un ex capannone industriale. Rigenerare uno spazio, un upificio, un ex upificio industriale e commerciale, portando all'interno nuove attività e nuovi servizi, è chiaro che ha portato sia a un impegno dal punto di vista umano, tecnologico e di studio importante e anche a un impegno finanziario ad un certo livello. Siamo su un investimento che supera un milione e mezzo di euro, quindi la sostenibilità per noi è assolutamente una scommessa.